Buongiorno, buongiorno amiglia, allora so che starete già ridendo perché siete dei pezzi di cacca, va bene, ma avete anche dei difetti. Devo fare questo video con questa voce e con queste difficoltà perché ho, come vi ho spiegato in questi giorni, l'influenza e ho un forte mal di gola e non riesco a parlare bene e a deglutire, però ho detto mi prendo dieci minuti per fare sto video, un po' per tenere comunque aperto e vivo il canale e un po' perché altrimenti se no la gente pensa che sia successo chissà che cosa, invece non è successo niente di che, nel senso che sono stato via nel fine settimana e sono tornato ieri e mi è venuto questa influenza, insomma mi ha causato questi problemi, sono cose che succedono, nel senso vi sarà capitato anche a voi di fare qualche giorno fuori e di tornare e essere ammalati, no? Ho sentito gente che ha detto è successo qualcosa di grave e sono con te qualsiasi cosa sia successa, è morto, l'hanno sostituito con un sosia, quello è Paul McCartney, non sono io, va bene, io sono sempre lo stesso, semplicemente sono influenzato, avrei evitato di fare video per qualche giorno però sennò poi si scatena il disastro, allora magari ne faccio uno al giorno finché guarisco per evitare di parlare molto, faccio un riassunto dei temi anche se in questi giorni non ho seguito tantissimo, ho solo visto che le giornate di campionato sono state, che molte partite dell'ultima giornata di campionato sono state rinviate e volevo fare un punto con voi soprattutto su questo e sul discorso del coronavirus e comunque vi ripeto, io non è successo niente, nel senso sono stato via alcuni giorni e sono tornato in queste condizioni qui di influenza ma voglio dire ho anche dei difetti quindi anzi a me piace anche avere l'influenza quindi me la godo e poi tra qualche giorno sperando anche che il campionato e il calcio ritorni a darci degli spunti interessanti tra qualche giorno continuerò a fare i video, tornerò a pieno regime insomma per adesso dovete accontentarvi di questa mia versione diciamo un po' deleteria, un po' debilitata allora per quel che riguarda il discorso del rinvio delle partite, campionato falsato e via dicendo anch'io credo che il campionato ad oggi si possa definire falsato ma attenzione a differenza di altri io non dico che il campionato è falsato per favorire l'una o l'altra squadra cioè io di questo non ho le prove e non mi interessa il campionato è falsato semplicemente perché il campionato ha bisogno di una sua regolarità e soprattutto le squadre che vi partecipano devono essere messe nelle condizioni di battersi contro gli altri 19 avversari in una condizione di partenza il più possibile uguale a quella degli altri capito e questo ad oggi non sta avvenendo ci sono certamente squadre che per quelle che sono le inerzie del campionato attuale da questa situazione sono favorite o sfavorite ma anche indirettamente diciamo senza colpe loro ma è una situazione oggettiva penso per esempio senza stare lì a parlare sempre di Inter, Juve, Lazio penso ad una squadra come il Verona per esempio che stava facendo un campionato con una sua inerzia positiva e che ad oggi si ritrova interrotta questa inerzia si ritrova anche minato questo entusiasmo diciamo nel giocare nel fare le partite, nell'imporsi sui campi cioè tu vai a congelare e a cambiare una cosa fondamentale del campionato che sono i momenti, le inerzie, il susseguirsi delle partite, delle giornate e poi permettetemi di dire che quando una squadra si ritrova per varie ragioni a diversi punti dall'altra un effetto psicologico ce l'hai specie se poi magari ti ritrovi a dover recuperare quella serie di punti in pochissime giornate non è come il cercare di farli in una normale come si può dire sessione diluita di gare come quelle della domenica quindi il campionato è falsato secondo me ma non uso questo termine dicendo è falsato perché l'ha falsato la Juve anche perché voglio dire se c'è una squadra che in questo momento sta avendo il maggior vantaggio secondo me dalla situazione del coronavirus e delle scelte prese di cui poi discuteremo è la Lazio ma con questo io non intendo mica gettare la croccia addosso alla Lazio anzi per certi versi mi farebbe piacere che la Lazio vincesse lo scudetto e che questo dopo 20 anni va bene come la pizzata e il gingerino uscisse dalla Torino-Milano sarebbe molto bello anche questo però voglio dire il campionato non è falsato a livello di manomissione a livello di interesse a favorire questa o quella squadra io non sto dicendo questo non lo credo non ne ho le prove io dico che è falsato per l'incompetenza delle scelte che sono state prese le scelte che si potevano prendere erano molto semplici ma dovevano partire tutte da una base che era quella dell'uguaglianza per tutti per me la decisione migliore è io sono sempre per il bianco o il nero nella vita per me la soluzione era molto semplice io credo che sui giornali si sia fatta un'informazione un batage diciamo su questa epidemia chiamiamola abbastanza sensazionalistico ed esagerato però credi effettivamente che la situazione del coronavirus sia pesante che bisogna evitare gli assembramenti di persone gli spostamenti di massa allora tu non stai a fare figli e figliastri giocando partite a porte chiuse o a porte aperte vuoi giocare a porte chiuse? bene, giocano tutti a porte chiuse o se no la soluzione migliore era quella di sospendere i campionati congelavi la situazione anche non serve sospenderle ad oltranza magari per 15 giorni, 20 giorni, un mese fin tanto che si prendevano delle decisioni di contingenza magari migliori ma si doveva partire da una base e questa base non è stata rispettata ed esaudita cioè quella dell'uguaglianza delle decisioni tutti dovevano essere soggetti alle stesse decisioni e non fare figli e figliastri anche perché permettetemi stiamo assistendo ad una cioè le partite residuali che vengono giocate in serie A sono ancora peggiori del non giocarne nessuna cioè stiamo assistendo ad una sorta di mini campionato del Sud Italia dove se tu hai la fortuna in questa giornata di avere la tua squadra che gioca contro una squadra del Sud Italia te la vedi se no no cioè siamo veramente a ridicolo e la cosa che fa specie è che chi dovrebbe prendere queste decisioni dovrebbe saperle queste cose cioè dovrebbe avere in testa cosa vuol dire andare ad impattare sull'uguaglianza di un campionato diciamo e delle condizioni di partenza e questo è il grave errore ed è questa la vera vergogna secondo me invece come al solito si è preferito dividersi in fazioni vedere chi favorisce cosa chi potrebbe favorire chi quando la realtà è che è stata presa una decisione veramente grave che ha sì secondo me che sta falsando il campionato per quelle che sono le sue inerzie e le sue situazioni ma la colpa è diciamo a livello di competenza a livello di comprensione di queste cose non di secondo me di complotto ma se possibile ancora più grave per quel che mi riguarda quindi sì per me il campionato purtroppo è falsato devo dire che non non mi sta piacendo come stanno venendo gestite alcune cose e a livello di coronavirus posso dirvi che secondo me abbiamo io non sono esterofilo anzi io cerco di difendere sempre l'Italia un paese che mi piace che credo abbia tante qualità però ecco io per esempio vi dico io sono un convinto federalista però su questa gestione del coronavirus per esempio si è fatta un macello totale che è stato quello del demandare alle regioni la gestione delle emergenze delle chiusure di certi posti delle chiusure di certi luoghi così poi hai la situazione di certi sindaci che ti mettono in quarantena se vieni da Lombardo-Veneto gente che deve stare in isolamento se viene dalla Lombardia dal Veneto cioè in Italia siamo tra virgolette federalisti nelle cose in cui non serve o non bisogna esserlo e nelle cose in cui servirebbe o bisognerebbe esserlo tipo non lo so banalmente i concorsi per entrare nelle scuole pubbliche ad insegnare è tutto alla merce diciamo del centralismo più dell'eterio quindi ancora una volta abbiamo fatto le cose male ok e avendo fatto le cose male questa volta a pagare è stato anche il mondo del calcio oltretutto poi c'è tutto questo contorno di ironia sul coronavirus cioè abbastanza anche dell'eterio voi come sapete io sono veneto e sento tipo alcuni napoletani campani diciamo persone del sud Italia che dicono ecco ci avete preso in giro per decenni sul discorso del colera adesso siete voi in Lombardia e Veneto ad avere il coronavirus cioè a parte che io sono sempre stato contrario a ste insulti a ste cose però vi faccio c'è proprio chi sostiene queste cose chi prende in giro due regioni per il coronavirus con questi argomenti si dimostra peggiore di chi prende per il culo Napoli o sud Italia per presunti problemi igienici e via dicendo perché voglio dire il coronavirus non nasce in Lombardia e in Veneto il coronavirus è un qualcosa che nasce altrove e che è arrivato in Italia in queste due regioni probabilmente per dei contatti che ci sono avuti arrivando dalla Cina quindi voglio dire non è un virus che nasce in Lombardia e in Veneto è un virus che arriva in Lombardia e in Veneto quindi veramente ancora qui abbiamo ancora una volta dato riprova di essere un paese veramente disunito nel migliore dei casi nel peggiore anche su questa questione incapace di cogliere i problemi e le capacità gestionali del mondo del calcio quindi questo è il mio pensiero mi dispiace molto mi mette tristezza accendere la tv e dover vedere due o tre partite di calcio che hanno il valore che hanno ripeto secondo me il campionato è stato rovinato è stato falsato mi dispiace molto non so con che tipo di entusiasmo si possa continuare a seguirlo io lo farò però mi dispiace molto perché si è alterata quella condizione di partenza paritaria che secondo me doveva essere garantita a tutti bene allora io vado scusate se ho avuto un tono un po' diciamo difficile da seguire ma non riesco a parlare bene spero di rimettermi presto vi saluto e buona giornata